Ciao a tutti, mi chiamo Davide, sono l'inventore del sito iFilm iDog.com dove voi partecipate ogni mese al concorso di fotografia. Potete inviare 5 foto del vostro cane e vince la più particolare e la più divertente. Ora faccio questo video per presentare i due premi di questo mese e ve li faccio subito vedere. Il primo premio è un gioco di intelligenza molto facile, infatti qua nella scatola c'è scritto livello 1 e è adatto per ogni cane, piccolo, grande, medio e anche per cani che non hanno mai fatto niente a livello di obbedienza e giochi di intelligenza. Vi faccio vedere il gioco. È un gioco a forma di zampa dove ci sono dei cassettini e se spostate ci sono degli altri cassettini nascosti. Qua uguale, basta ruotare e ci sono degli altri cassettini. Questo per far nascondere i bocconcini e il cane dovrà trovarli. Queste scanalature sono fatte apposta in modo che il cane con la zampa riesca a spostare i cassettini. All'inizio sembrerà difficile ma poi... Il secondo gioco è un frisbee, però non è un normale frisbee, quelli di plastica come i nostri, ma è un frisbee in caucciù naturale ed è fatto apposta per non far scheggiare i denti al cane, farsi male mentre lo prendono al volo. Vi faccio vedere l'esempio del mio che è già aperto. Questo è il mio. Come potete vedere sono resistenti al morso del cane e sono flessibili in ogni parte. Vi ringrazio a tutti per la partecipazione e il prossimo mese farò il prossimo video per i premi successivi. Ciao a tutti!